Buon pomeriggio a tutti gli utenti della Network Viva, come potete vedere mi trovo a Sanremo e qui alle mie spalle c'è il Teatro Ariston. Qui c'è una frenesia, un'atmosfera magica, c'è grande concitazione e da parte di tutti i fan che sono venuti qui ad assistere al Festival di Sanremo e di incontrare il proprio cantante preferito. E ovviamente anche da parte di turisti che sono venuti qui in Liguria a visitare la terra e vengono attratti dall'atmosfera coinvolgente che si respira qui al Festival di Sanremo. Il Festival della Canzone Italiana è ovviamente lo specchio della cultura del nostro paese. Tantissime curiosità sugli ospiti e sui conduttori, noi proveremo in queste dirette a raccontarvi un po' quello che succede. Questa sera quindi la prima serata del Festival di Sanremo e a noi non resta che augurarci un buon festival.